ciao ciao allora devo dire la verità devo dire la verità e devo dire che ogni tanto seguo anche addirittura la cronaca internazionale ci capisco una mazza però almeno uno ci prova e tra le molte cose serie ci sono anche le minchiate ovviamente io sono un generatore natural di minchiate e non ce la faccio a capire le cose serie non c'ho abbastanza dei neuroni e dovrò farmene crescere quindi non me ne vogliate esperti e niente stavo vedendo come riescono a litigare due come si dice in inglese i gomenic e non so tradurla in italiano dove fanatici dell'ego credo che sono arnold schwarzenegger e donald trump e vederli che litigano è fantastico cioè e devo dire che l'ego di arnold cioè è una robina grossa così confronto alla montagna gigantesca di donald è bellissimo vederlo dal punto di vista di una donna a cui dell'ego gli frega un cazzo perché io anche quando sono punta dal lego mando fare in culo dopo di che il giorno dopo non neanche me ne ricordo più ma tra l'altro mi sembra di ieri di essermi presa se una donna degli stivali che non ho capito cosa vuol dire si porto gli stivali e mi sono preso proprio un vaffanculo di quelli belli ma è normale per me no ovviamente giorno dopo uno ne frega più un cazzo ma anche cinque minuti dopo uno cerca di dimenticare perché i vantaggi di non avere un cervello come nel mio caso il mio caso è che qualunque cosa mi entra da qua e mi esce di qui e quindi sono questi i miei vantaggi invece questi stanno andando avanti a litigare per questioni di orgoglio attenzione perché sembrano che donald prima facesse un programma chiamato scusate la pronuncia the apprentice e questo programma è stato poi passato al nostro arnold internazionale che è un confronto un fronte a donald e santa maria novella crenzo oppure maria goretti credo anche per il numero di donne immagino perché donald è un puttaniere internazionale no diventato non ho ancora capito come il presidente e niente io sto guardando questa cosa mi sto divertendo tantissimo ovviamente io alla fine no la cosa più incredibile io giuro di essere una grandissima fan di arnold è bravissimo secondo me nei ruoli che appunto ha fatto cioè era il perfetto terminator lui per le commedie comiche sono un po così non sono molto convinta però secondo me lui è molto bravo ci sono cose che fanno veramente molto bene poi mi piace moltissimo la determinazione con cui ha condotto la sua vita e lasciamo perdere i soldi che ha fatto cioè buon fare lui se si è fatto soldi penso che se le sia meritati tutti non sono assolutamente invidiosa di lui e anzi penso che pure era proprio un bel uomo non mi piacciono quelli muscolosi ma mi piacciono molto i suoi occhi blu scuro e mi è un bel uomo comunque stanno litigando per questa cosa e cioè ed è bellissimo perché serve sembrano due prime donne che si dicono le bastardate più incredibili perché non sono brutali come fanno gli uomini quando si incazzano no che generalmente inizia così è quello che ho capito avendo io visto diverse risse allora iniziano a spintonarsi non so perché devono spintonarsi poi in genere se ci sono gli amici li dividono se non ci sono gli amici possono anche volare tavoli e poi loro vanno avanti più a pugni le donne tendenzialmente si prendono per i capelli quindi segnatemi queste differenze poi no per come va a finire con gli uomini il giorno dopo dopo essersi ubriacati prima e ammazzati di botte coerentemente il giorno dopo o fanno pace vanno prendersi una birra e l'ho visto succedere oppure non si parlano più però loro l'hanno finita lì le donne invece andranno avanti tutta la vita come faccio anch'io io continuo io ho i miei piccoli giocattolini anti stress che sono le persone che mi hanno fatto girare i coglioni in Piemonte e a cui ogni volta ritorno e il mio giocattolino lo spacco ancora una volta poi ci metto lo scotch lo lascio lì per un tempo ritorno e lo faccio è proprio un carattere di merda il mio ma è tanto divertente fare così mi diverto troppo proprio gli attacco gli elettrodi e poi ogni tanto accendo diciamo la corrente no e poi mi piacciono tantissimo mettere gli aghi sotto le dita e invece questi uomini hanno un modo di litigare un po femminile no perché da quello che ho capito donald ha iniziato il litigio quindi donald è un provocatore quindi già per me ha torto quindi vai arnold ti amo arnold ed ho detto guarda che tu sei una cip con le apprentice perché prima lo faceva donald poi diventato presidente e quindi solo lo faceva arnold siccome gli ascolti andavano di merda povero arnold ti avrei seguito io per aiutarti perché sei un figo allora siccome gli ascolti andavano di merda donald ha cazziato arnold e arnold gli ha risposto qualcosa tipo beh possiamo ho un'idea grandiosa possiamo scambiarci di ruolo perché io come presidente sarei migliore di te però penso che arnold volesse vendicarsi di del fatto che no scusami penso che donald volesse vendicarsi di arnold perché non ha votato per lui quindi è una cosa che non finirà mai loro continueranno a beccarsi allegramente come due prime donne è fantastico io vi adoro siete gli unici uomini sulla terra che litigate come le donne credo comunque adesso sembra che arnold abbia lasciato la trasmissione perché la gente continuava a cagargli il cazzo ecco non va bene lui si trovava bene con i membri dello staff ma non si trovava bene con il pubblico e insomma il clima che c'è in america da quello che ho sentito io solo due studenti americani ma non sono proprio esattamente felici di quello che è successo il clima che c'è in america è molto diviso tutti stanno andando verso posizioni estreme quindi siamo nella merda e l'ho capito anch'io e quindi preoccupatevi se l'ho capito anche io quindi niente alla fine arnold si è cagato il cazzo e lasciato la trasmissione stanno continuando a beccarsi allegramente ma è fantastico proprio tra l'altro adesso sto vedendo minchia che pezze di fighe le figlie di arnold comunque questi qui stanno continuando a beccarsi su twitter e non la fanno più finita perché è un mese che stanno litigando è fantastico e tu hai fatto quello e lui ha fatto quell'altro come di bambini no però insomma arnold ammette di aver fatto una puttanata a mettere le corna sua moglie ma arnold senti confronto confronto a donna dispiace dirlo sei un gran bell'uomo ma secondo me confronto a quel a quel donna lì trump te non hai fatto niente cioè nel senso io sono convinta che tu avessi tutte le potenzialità di farti più o meno tutta la terra no però insomma hai avuto solo un matrimonio lui ne ha avuti tre hai avuto solo un figlio in leditimo lui chissà quanti ne ha li ha nascosti forse meglio di te spiace dirlo ma hai nascosto a casa e la moglie ti ha sgamato però insomma arnold forever io ti adoro e ascoltavo sempre i tuoi video per avere un po di come dire voglia di fare così e grazie ai tuoi video anche finito il dottorato quindi per me sei un figo comunque io non sono figa però arnold nel senso confronto la il mantenimento che ti chiederà la tua ex moglie costo come una tartaruga a dieta no un rettile a dieta quindi c'è nel caso no se vuoi finanziarmi io sono un po passatella lo ammetto però insomma la tua fidanzata due anni più di me quindi potrei andar bene sì l'unica cosa che voi siete tutti in america alti un metro novanti sono un po più bassa però insomma non so vedi tu io mi propongo mi sono già proposta a bret pitt non mi ha risposto non è che ti uso come seconda ripiego è anche perché sono sportivo potrei essere anche il tuo trecentesimo ripiego tu nel caso no mi scrivi un sms io ce lo dico al mio uomo perché dobbiamo andare avanti e niente io non ti costo niente tu tu mi dai 100 mila dollari no un orologio da 100 mila dollari e poi anche se vuoi farti un'avventura con me basta io lo capisco sono sportiva capisco puoi trovarti delle fighe più di me e io sparisco non ti chiamo più non ti preoccupare non faccio neanche più video su di te solo c'è un gran figo e complimenti